Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPL dove si è verificato un incidente al chilometro 71 tra Pisa Nord-Est e Navacchio in direzione Firenze. In A1 in direzione Bologna, tratto chiuso per lavori tra Aglio e Roncobilaccio fino al 28 febbraio. In A11 per lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, stanotte in orario 22.6 resterà chiusa l'entrata di Prato-Est in direzione Firenze. Per la viabilità cittadina a Firenze è stato sospeso l'obbligo di spostare le auto in occasione della pulizia delle strade, non multe e rimozioni fino al 31 marzo. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana e comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!